Lando Buzanca, signore e signori, mio mentore ed insegnante del mestiere dell'attore e di vita soprattutto, mio e di tutte le persone con cui lui ha collaborato nella vita e con cui è stato a contatto, perché sono sicuro, veramente sicuro, che come lui ha cresciuto me, sicuramente ha cresciuto tutte le persone che lo hanno circondato nella vita, sicuramente hanno portato a casa qualcosa in più, grazie alla sua vicina. Perché era una persona veramente meravigliosa e una persona estremamente positiva, una persona che affrontava tutto, qualsiasi cosa con il sorriso, estremamente alla mano e che scherzava con tutti, amichevole, piacevole, veramente qualcosa di raro, veramente qualcosa di raro. Quindi grazie Lando e niente, mi dispiace molto perché ho saputo che l'ultimo periodo della tua vita non è stato il massimo, quindi questo un po' mi addolora, perché ho saputo insomma che sei stato diversi mesi in un RSA, un po' abbandonato, poco assistito, ecco insomma, quindi questo sinceramente mi fa soffrire. Però Lando, che dire, per me sei stato veramente un grande, è stato un onore insomma, lavorare a stretto giro nel restauratore che abbiamo fatto nel 2010, se non l'avete visto guardatelo. Io ero il suo assistente di bottega e l'abbiamo girato a Belgrado, anche se era ambientato a Roma e siamo stati veramente tutta l'estate insieme perché ovviamente condividevamo lo stesso hotel, quindi stavamo sempre a cena insieme, pranzo e quant'altro. Sei episodi a Belgrado insomma e ci abbiamo visto parecchio a girarlo, quindi devo dire che insomma abbiamo trascorso del tempo insieme. E quindi niente, Alex grazie mille, Alex ovviamente per chi non lo conoscesse il mitico direttore top di Mondo Spettacolo, perché voglio svelare adesso ai lettori di Mondo Spettacolo che magari non conoscono Alex e che in realtà dietro Mondo Spettacolo c'è appunto il direttore nonché anche fondatore. Quindi Mondo Spettacolo non è solo formato da modelle, attrici, insomma belle donne, ma soprattutto l'anima di Mondo Spettacolo è proprio data dal suo direttore e fondatore Alex Cunzolo. Quindi grazie Alex di questa possibilità e grazie a tutti voi per averci ascoltato e ciao!